Allora, l'architetto Bettini prima interveniva, vuoi dire qualcosa rispetto all'intervento della consigliera Ravinale? Se vuoi venire qui… Può scegliere la destinazione d'uso, non che scelta la destinazione d'uso allora decido quale e in che misura fare la bonifica. Questo lo trovo molto scorretto perché comunque chi ha bonificato ha ricevuto un terreno santo e dovrebbe comunque renderlo santo. Questo mi sembra molto chiaro. Perfetto. Sono molto contento che tutto il discorso sia incardinato nella bonifica. Tu sai che fra me e te non c'è pieno accordo sul fatto di porre la questione della vendita o dell'esproprio perché si dimostrerà nei fatti storicamente che agendo sulla bonifica si può arrivare all'esproprio. Guai il contrario. Grazie Bettini, come al solito puntuale, preciso e positivo. Prego. Allora, c'è un intervento? Si presenti? Grazie. Sono Paolo Ghisleni di Unione Popolare. Ma io sono particolarmente spiaciuto dell'assenza del professor Foa perché se è vero che gli interventi di Eleonora Tesio che ha fatto il punto sulla situazione della Tissen, quello di De Magistris che ci ha anche spronato così sulla volontà e da cui poi aspettiamo i dettagli tecnici che ha promesso. Però quello che io mi aspettavo dall'intervento del professor Foa, che era appunto dedicato all'esproprio, era appunto questo, cioè come la cosa pubblica può rientrare in possesso di questi che io non so bene, non so se sia corretto definire dei beni comuni. Sono piuttosto dei mali comuni, viste le condizioni in cui l'industria e la classe industriale se li hanno lasciati, ma sono dei mali comuni destinati a rimanere tali per l'eternità se non si interviene in qualche modo. Allora io mi aspettavo un pochino dall'intervento del professor Foa che si spiegasse il come, il come si può fare, perché il che cosa ci è stato detto da De Magistris, ma il come va poi visto. Questo lo dico anche perché nel 2021, credo, la prima volta che mi lessi la proposta tecnica di progetto preliminare al nuovo piano regolatore, che allora era revisione generale del piano regolatore, e quindi constatai che nella città di Torino vi sono 199 aree industriali dismesse che urbanisticamente sono messe nelle due categorie delle ZUT, zone urbane di trasformazione, delle ATS, aree per servizi. A 25 anni, a 28 anni dall'approvazione del vecchio piano regolatore, 199 aree per una superficie territoriale di 4.932.000, mi pare, metri quadri, rispetto alla quale l'area Tissen, con tutte le implicazioni simboliche, emotive e anche politiche, poi adesso con la connessione che è venuta avere con la realizzazione dell'ospedale Maria Vittoria, ma in termini di aree da superficie rappresenta l'1,25% della superficie occupata tuttora da queste aree dismesse. Allora, aree dismesse che evidentemente, se sono qui, quale da 25 anni, quale forse anche da maggior tempo, quale da un po' meno, in base alla sacrosanta legge della domanda e dell'offerta del mercato, sacrosanta non per me ma per il sistema in cui viviamo, evidentemente non sono molto appetibili, come si suol dire. Quindi non dovrebbero avere un gran valore e quindi il loro esproprio, le relative indennità, non dovrebbe essere in linea di massima una cosa così grave e gravosa come talvolta viene presentata. Ecco, questo credo che sia. Adesso l'area Thyssen, a cui è dedicata questa serata, è anche possibile, è anche giusto che diventi la punta di lancia di un'azione di recupero alla cosa pubblica e alla cittadinanza di ciò che l'industrialismo le ha tolto e rovinato. Però non è che le altre 198 aree le possiamo dimenticare, giusto per il fatto che non è successo che in esse sette esseri umani siano bruciati vivi. Questo credo che è il compito che dobbiamo tutti avere nei prossimi anni, dal momento in cui proseguirà la procedura del nuovo piano regolatore. Grazie. Grazie. Scusate, io sono Domenico Bretto e tendenzialmente parlo come cittadino, sono un residente all'Ucento che è la zona che sta sopra, su via Pianezza, sopra la Thyssen e l'Exilva. Sì, sì, sì. Pianezza e vedete che sono anneriti non è mica per il 2007, mica per la tragedia che c'è stata, era per un incendio che c'era già stato alla fine degli anni 90 e noi come comitato di quartiere di Lucento siamo entrati lì dentro a parlare con i sindacati per quello che era successo, perché quella nuvola nera che si era alzata dalla fabbrica aveva invaso Lucento. E quindi bisogna capire che diavolo stava succedendo. Non vi racconto com'è stato il confronto con gli operai sindacati, lasciamo perdere. Nel 2000 c'è stata l'alluvione, la Dora è esondato. Voi non avete idea di che cosa si è portata via la Dora dalla Thyssen. Altro che pensare che la pioggia fa cadere il cromo, si diluisce, ma quella alluvione è lì che tra l'altro ha lasciato un lago, si è andata alla Pellerina, il terzo lago che c'è lì è un lago che è rimasto a causa dell'alluvione del 2000. Lì l'alluvione è portata via tutto quello che c'era all'interno della Thyssen e quindi tutte le porcherie, non è che se le portate via tutte ovviamente, ma una grossa parte le ha buttate nella Dora. Ora, quella zona lì è una zona esondabile. Anzi, addirittura credo che il piano regolatore la ritenga inondabile, nel senso che purtroppo, se deve capitare un altro disastro, quella zona lì si può allagare. Ora, costruire qualsiasi cosa lì, dal mio punto di vista, proprio per le condizioni di esondabilità dell'aria, sarebbe una follia. A meno che non si costruiscono delle palafitte, cioè costruisci qualcosa che è sopraelevato, dovesse venire un'altra alluvione, almeno ce l'hai di sotto e non ce l'hai di sotto. La proprietà di quell'area lì, che poi è passata la Thyssen dalla Texid, è che in qualche modo non ci permette, almeno dal mio punto di vista, di tentare di riprendercela. Perché vorrebbe dire che se noi ce la riprendiamo, intendo come bene e comune, ci tocca poi bonificarla. Cioè, finché rimane in capo a qualcuno, sarà compito di quel qualcuno, in qualche modo, riuscire a bonificarla. Ma temo che anche la bonifica di quell'area lì sarebbe una cosa improponibile. Noi, nelle varie proposte che abbiamo fatto, abbiamo cercato di fare delle ricerche anche di carattere storico su quell'area, su come riutilizzarla, perché avevamo fatto delle proposte. Quando c'era la giunta a Fassino, chi era assessore all'urbanistica? Lo Russo. Lo Russo è venuto più di una volta in quartiere come assessore all'urbanistica a discutere del castello di Lucento II e quindi di quella che doveva essere la variante che avrebbe dovuto riguardare la seconda parte del Bonafus, dove la prima parte già aveva fatto delle cose, che è tutta quell'area dove ci sono, dove hanno decentrato una serie di attività, diciamo, produttive, anche se non sono industriali, Bergabieco, beh, in qualche modo, affrontare quella trasformazione urbanistica. Ora, lo Russo, già allora, era uno dei ferventi a dire quell'area è a vocazione industriale. Quindi non si fa nessun tipo di variante di quell'area lì che non sia di carattere industriale. Credo che lo Russo adesso sia della stessa opinione. Cioè, non credo assolutamente che si metta nell'ottica di diventare un De Magistris e di avere quella forza, quella competenza e quella voglia politica di intervenire su quell'area con una scelta che purtroppo per lui lo metterebbe, come dire, in contraddizione rispetto a tutta una serie di iniziative, di realtà, di situazioni, ma che in qualche modo sarebbe un salto di qualità. Non lo farà. Non l'hanno fatto l'aggiunta precedente, che in qualche modo, con la quale peraltro si avevano pure dei contatti, nel tentativo di far diventare quell'area lì un'area verde, un'area che non abbia più nessun tipo di impatto dal punto di vista edificatorio. Ripeto, perché il motivo di fondo è che è esondabile. E quindi costruire lì sarebbe un po' un problema. Allora, lì abbiamo poche scelte. O la tombiamo, buttiamo un bel getto di cemento, abbattiamo la tisse, buttiamo un bel getto di cemento, catriamo quello che sia ed evitiamo che ci siano infiltrazioni all'interno del terreno, in quell'area lì, o se no è un problema che dal mio punto di vista non lo risolverà sicuramente questa giunta. non sono in grado di avere quella forza di poter dire quell'area lì, ci facciamo qualcosa di pubblico, che sia verde, che sia qualsiasi altra cosa, ma facciamo. Un'ultima nota, se volete, stonata. Ma la canapa, a voi vi risulta? A me risulta che le piantagioni di canapa sono degli ottimi recuperatori di metalli pesanti dai terreni. Ora, è ovvio che una piantagione di canapa non è che la puoi usare per farci degli alimenti, o per farci qualsiasi cosa. Ovviamente ci puoi fare dei tessuti, dei vestiti. Però, perché non considerare delle alternative, che non siano solamente delle attività di carattere riferite, non so, alla chimica, alla fine, ma consideriamo anche delle altre, basta studiarle, magari scopriamo che abbiamo delle alternative molto meno dispensiose, un po' più verdi, un po' meno problematiche, e riusciamo anche a ottenere qualcosa. Sono Marcello Vindigni. Io credo che la questione del piano regolatore non possa essere vista come un passaggio al quale subordinare le scelte fino a quando il piano regolatore non sarà approvato. Anche perché ci sono esigenze che sono prioritarie e ci sono anche messaggi che si possono e si debbono mandare per dire quali sono gli obiettivi che i cittadini propongono per il piano regolatore. Bisogna smetterla di pensare al fatto che il piano regolatore sia un fatto tecnico delegato ai tecnici che ci dicono che cosa è giusto fare, che cosa è sbagliato fare. Ora, naturalmente qui non si tratta di accelerare o di decelerare il percorso del piano regolatore, qui si tratta di capire quali segnali bisogna dare perché il piano sia affrontato nel modo corretto. Uno dei segnali è cercare di capire che cosa vuol dire avere Bloomberg come consulente per il piano regolatore. Mi pare che questo aspetto ancora non sia stato adeguatamente affrontato. Ci sono capitali che girano nel mondo in misura impressionante. Vi racconto un solo aneddoto che dà l'idea, un fatterello, di quello che gira nel mondo. Io sono nato in un piccolo paese che quando sono nato io aveva 12.000 abitanti, ci conoscevamo tutti, i ragazzi facevamo le bande, le scorribande, e ci conoscevamo tutti. Qualche anno fa passavo nel corso e noto una persona che mi pareva di riconoscere con un mio compagno di giochi. Mi sono avvicinato, era emigrato in Canada che aveva 12-13 anni e quindi erano 60 anni che non ci vedevamo. Cosa fai? Cosa non fai? E questa persona mi dice che aveva lavorato, stava lavorando al piano di valorizzazione turistica del Kilimanjaro. Cioè un bambino, un ragazzo che parte da un paese di 12.000 abitanti, che emigra per ragioni che capite perfettamente e che 50 anni dopo mi dice che sto facendo il piano di valorizzazione turistica del Kilimanjaro. Al che ho voluto un po' approfondire le cose che faceva e lui mi ha confermato che ci sono, allora c'erano, cioè 4-5 anni fa, una quantità enorme di soldi che attende di atterrare e che chi si preoccupa di trovare gli investimenti giusti, di settori giusti dove intervenire, aveva preso in considerazione l'Italia. Cioè un territorio con determinate prospettive che però non potevano decollare perché le aree disponibili non erano sufficienti per fare gli investimenti minimi previsti da questo piano. E quindi non vi sto parlando di Bloomberg, ma vi sto parlando di una persona che fa il professionista negli Stati Uniti. Allora, che cosa vuol dire questa consulenza che viene proposta? Mi parebbe opportuno che si approfondisse questo aspetto e si vedesse quali risultati si attendono, in quali tempi e in che modo li si voglia valutare. La seconda questione è il segnale, i segnali da dare. Ci sono, il caso della Thyssen, può essere un episodio concreto in cui le indicazioni proposte, l'utilizzo che si propone, dà il senso del piano che si vuole. Ora, da questo punto di vista emergono già dei bisogni nella nostra città. C'è un bisogno di spazi per sviluppare la rete ospedaliera? Se c'è questo bisogno, perché non prenderla in considerazione? E quindi, dato che di varianti negli ultimi vent'anni se ne saranno state fatte 300, facciamone una. Non cambia nulla. Non è che dobbiamo aspettare il piano regolatore per fare delle varianti. Faccio dei casi concreti. Negli anni 70, in attesa che si facesse il piano regolatore, è stata fatta la variante 17. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda. Bene, è stata fatta. In che cosa consisteva questa variante 17? Che tutti i piani di edilizia pubblica, dove era prevista una ulteriore espansione edilizia, venissero contenuti per aumentare gli spazi pubblici per le aree di 167, ma per supplire anche alle carenze nelle aree circostanti. E la variante fu fatta, e fu fatta sul richiesto popolare. Per dire, la Capamianto, non so se qualcuno di voi, Capamianto, che era in corso peschiera, saranno state 4.000 m2, e fu oggetto di una variante a verde pubblico proprio per avviare il risanamento, come dice anche la parola stessa. Quindi, perché non accelerare la formazione di una variante urbanistica per quest'area, che dia proprio le linee di marcia di come noi vogliamo il piano regolatore? E agli argomenti, io vorrei aggiungere, cioè alle ipotesi di utilizzo, io ne vorrei aggiungere altre due. Ho letto che certe zone destinate ad aree agricole nella zona nord sono saltate o si intendono far saltare. Perché non dobbiamo pensare al mantenimento di aree agricole all'interno della città? anche a titolo sperimentale. E in ultimo, il problema della casa. Vedete che la questione della diciamo appropriazione di valore nelle aree che hanno una maggiore una vocazione in tal senso, non tutte le aree hanno un valore potenziale, ci sono aree che sono già state depotenziate. Beh, Torino come sistema urbano è una delle aree su cui si punta per diciamo valorizzare il potenziale. Il vero problema è a favore di chi va questa valorizzazione di potenziale. Ora, uno dei meccanismi attraverso cui avviene questa valorizzazione del potenziale è la trasformazione nel settore dell'edilizia residenziale. Non perché si passi da residenza a diciamo a commercio, ma perché cambia la natura della residenza a vantaggio a svantaggio di chi? Dei cedri popolari. A Torino da quanto tempo non si fa una casa popolare? abbiamo dimenticato questa esigenza a cui nel tempo è stata data sempre una risposta adeguata. Torino aveva vent'anni fa 30.000 alloggi di edilizia popolare e ora ne ha poco più della metà 16, 17, 18.000. Si è fatto cassa anche sulle case popolari. Perché non prevedere che in questo ambito si possa invertire la tendenza e fare anche lì dell'edilizia pubblica. Quindi ragionare perché non sono cose che si improvvisano in una serata o in un intervento ma creare diciamo gli strumenti perché in tempi dati cioè non lunghissimi 60 giorni 90 giorni una cosa del genere si faccia un bilancio di quelle che possono essere le esigenze a cui dare una risposta in carattere esemplare anticipatore e su quello fare convergere tutte le forze possibili a livello cittadino perché il consiglio comunale prenda una decisione in tal senso dopodiché decise le destinazioni allora si verifica quali sono gli interventi preventivi che con le modifiche andranno apportate prima di intervenire grazie io tirando in ballo il piano regolatore non intendevo minimamente dire che tutte le aree dismesse debbano andare di conserva e quindi restare bloccate fino all'approvazione del piano e ognuna a cominciare dalla TISEN può avere la sua storia il suo destino proprio non grazie buonasera io sono Federica Laudisa sono consigliera circoscrizionale nella circoscrizione 5 di consigliera di minoranza vi ringrazio per aver organizzato questo appuntamento c'è stata già una commissione nella circoscrizione 5 che forse non è andata benissimo un appuntamento che devo dire mi ha lasciato più tante domande ammetto la mia ignoranza e la prima domanda è si è parlato molto chi inquina paga in 16 anni chi ha inquinato non ha pagato allora la domanda che faccio è quali strumenti abbiamo si hanno per far pagare chi ha inquinato cioè De Magistris ha detto io ho fatto un'ordinanza cioè al di là della destinazione d'uso non destinazione d'uso piano regolatore perché si diciamo preferisce adottare un un atteggiamento passivo di diciamo accettazione cioè si può fare una battaglia considerato quello anche che ci siamo detti qui non è un soltanto forse un risarcimento sicuramente un risarcimento per quello che hanno fatto dal punto di vista dell'inquinamento ambientale ma proprio un risarcimento se vogliamo morale per la città non solo per le vittime ma per la città cioè un guizzo diciamo una riscossa della città che deve diciamo in qualche modo combattere e agire andare andare fino in fondo usare tutti gli strumenti affinché chi ha inquinato paghi cioè non è accettabile una diciamo che la facciano franca la facciano franca non solo i dirigenti responsabili e quant'altro ma chi ha la proprietà chi aveva la proprietà questa è la prima domanda abbiamo detto l'ordinanza però lì sì c'è bisogno di una grossa forza da parte del sindaco e da parte della giunta soprattutto una forte forza del singolo volentà del sindaco ad andare fino in fondo due si parlava prima della questione del di queste proroghe rispetto a questi piani straordinarie non ricordo bene il nome di da parte dell'attuale proprietà si diceva ha detto il consigliere della 4 si sta prorogando probabilmente perché il livello non si abbassa il livello diciamo nella soglia ammessa dalla legge quindi vuol dire che non stanno usando gli strumenti o le modalità efficaci per abbassare questo livello allora io mi chiedo e diceva anche io non so però qual è il livello ma non c'è un controllo non c'è un controllo pubblico su questa cosa non si può chiedere i valori e quali strumenti cioè non c'è un controllo esterno un controllo terzo e cioè non si può continuare a prorogare senza che ci sia da parte dell'amministrazione pubblica una richiesta cioè ci vuole una forza da parte dell'amministrazione pubblica in qualche modo a battere anche i pugni altrimenti non se ne esce grazie rispetto all'ultimo intervento direi che oltre a prenderlo come un'esortazione certo non rivolta a noi ricordo però a tutti la costituzione e ricordo l'articolo 193 del nostro codice dell'ambiente che attribuisce pure al sindaco il quale deve disporre con ordinanza dice operazioni di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi dello stato originario dei luoghi e il termine entro cui provvedere del corso il quale dice la legge il sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate questo viene prima della sentenza del tribunale di Torino sul processo Thyssen che vorrei ricordare perché richiama appunto anche le cose che diceva lei adesso il comune di Torino quindi chi lo rappresenta è il sindaco il comune di Torino dice la sentenza del tribunale di Torino del 2013 ha subito in conseguenza dei reati qui accertati da cui sono seguite quelle condanne una grave lesione alla sua immagine rientrando la tutela della salute dei lavoratori la sicurezza sul lavoro tra i fini perseguiti in nome e a beneficio della collettività rappresentata e amministrata da quel sindaco anche il dolore e il turbamento patiti dalla collettività a seguito dell'evento reato costituiscono un danno non patrimoniale causalmente proprio che ha avuto causa nei reati qui accertati e quindi ingiusto e quindi da risarcire tribunale è vero che avevamo un magistrato allora che era esemplare però il tribunale la giustizia si è pronunciata in questo modo e dopo 16 anni come se non avesse detto nulla è per questo che siamo qui questa sera non siamo tantissimi parecchi sono collegati però abbiamo accertato che c'è una ventina di collegamenti e va bene scusate sono anche rappresentante di medicina democratica oltre che ringraziare io no no abbiate pazienza perché ci sono state lette delle cose ma forse è bene che ci ragioniamo un po' insieme a parte il fatto che i reati ambientali vengono prescritti con grande rapidità e andare a capire chi è stato il vero erogatore del danno è difficilissimo perché c'è una sossequenza io sono rappresentante di medicina democratica in questa città medicina democratica è stata l'ultima a rimanere parte in causa in quel processo perché poco per volta tutte le parti civili si sono tolte allora a cominciare dal comune i familiari per carità i familiari hanno patteggiato medicina democratica dice che è giusto c'è un problema e rispettiamo quella scelta anzi se i familiari delle vittime avevano bisogno questa è la scelta corretta ma tutti gli altri compresi i sindacati si sono hanno fatto un patteggiamento e sono tolti sfilati dal processo adesso voi mi spiegate come si fa a ritornare indietro e riprendere dicendo ci siamo sbagliati abbiamo preso quei soldi abbiamo accettato patteggiato adesso invece non abbiamo cambiato idea 16 anni dopo ecco allora ci sono delle delle situazioni che vanno affrentate tempo per tempo rimane quello che è stato detto qui l'unica cosa in carico rimane quella del sindaco con l'obbligo di bonifica tutto il resto è da accertare è da accertare danno perché non mi sembra che non si capisca bene non credo che sia facilissimo definire un danno sanitario bisognerebbe fare delle analisi epidemiologiche prelievi impossibile pensate a cosa succede alla Solvay di Rosignano perché poi ci sono delle situazioni che sono assurde nel senso che gli unici che hanno i soldi e la potenza per controllare la situazione sono gli stessi che provocano il danno a Rosignano scusatemi qui alla Solvay di Spinetta Marengo gli unici che sono in grado di fare analisi chimiche su tutto il territorio con quella precisione è la Solvay questa è la situazione a cui ci troviamo di fronte e quindi io con tutto il bene che ci vogliamo però poi ci sono i processi c'è il processo Eternit Business in secondo grado a Novara che ha avuto un suo esito ma a Novara hanno dovuto inventarsi anche dei reati ambientali estremamente particolari e alla fine anche Guariniello è stato smentito nel primo Eternit perché hanno hanno rovesciato il tipo di reato e la sentenza è andata in prescrizione solo per fare alcune precisazioni scusatemi grazie ravinali ravinali alzato la mano no volevo solo chiedere a quest'ultimo intervento scusa non ricordo il nome no tu dici una cosa rilevante perché Mariangelo ha letto una sentenza di primo grado in cui quel danno veniva individuato ma non liquidato nel suo montare credo almeno e quanto stavi riferendo era che in realtà poi tutte le parti civili hanno trovato una transazione quindi si sono prese dei soldi fondamentalmente dall'ora Tissencrup compreso il comune di Torino è così? ok ok quindi ok quindi no è perché è un dato rilevante è un dato rilevante no invece rispetto alla vostra deliberazione di iniziativa popolare solo per dire sicuramente c'è quel tema del piano regolatore che si cercherà di dire poi lo acquisiamo col piano regolatore può essere anche su altre vicende è stato così sappiate solo che la destinazione sanitaria è su un altro piano ma invece rispetto al tema della destinazione a verde c'è già stata una pronuncia del consiglio in quella direzione per cui secondo me c'è un buon margine di riuscire a portarla avanti ecco quella quella battaglia e quella iniziativa molto positiva che avete lanciato bene allora grazie infinite a tutti e alla prossima prossimo appuntamento ringraziando anche la nostra amica eh Eleonora Artesio per essere stata qui con noi fino alla fine e a